che ora è? sono le sette e tre minuti guardate siccome sta tramontando il sole come ha detto il signore assennato dell'arba poglia guardate questo è uno sloppy dato dal colore del tramonto guardate si è rassennato questo è il tramonto del sole come dice lì questo è uno sloppy alle ore sette e noi tornando da mare troviamo questa sorpresa questo schifo ci mette dove stai? eh, ora c'è la retina ecco bene esce che ne esce è già si lasstanti siccome siccome siccome